Eccoci qua ragazzi, buonasera e benvenuti, ci ed è poco, è appannato, noi stiamo preparando tutto il palco, noi Mauri, Gabri stiamo preparando tutto il palco per domani, quindi vi ricordiamo l'appuntamento, siamo illuminati, domani sera Cinema Moderno Fusignano, ore 21, vi aspettiamo tutti, quindi tanti tanti per il nostro concertone, per il concertone del Superband e del vostro nostro coro, ciao ciao ciao